Eccoci cari amici di Trasferirsi in Irlanda, bentornati sul canale. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Domenico e abito a Dugleno da 11 anni. Allora, di cosa vi parlerò oggi? Parleremo del surplus di bilancio che c'è in Irlanda. Vi leggerò un articolo che ho qui pronto di ADN Kronos, che ho trovato online, vi metterò il link in descrizione. Voglio leggervi questo articolo perché parla di economia irlandese, dei progetti economici qui del governo irlandese, che interessano a tutti quelli che si vogliono trasferire, perché secondo me è una cosa utile sapere come si sta, diciamo, evolvendo l'economia del paese in cui si è interessati ad emigrare, o che in questo caso d'Irlanda, va bene? Quindi leggerò l'articolo e mi fermerò dopo ogni paragrafo, quando lo riterrò necessario, lo commenteremo insieme, vi darò la mia opinione finale, faremo una comparazione tra l'Irlanda e l'Italia a livello economico, va bene? E dopo vi darò i miei commenti finali. Iniziamo a leggere questo articolo che vi ricordo sarà in descrizione. Quindi iniziamo dicendo Paradosso Irlanda, questo è il titolo, Paradosso Irlanda, anche i ricchi piangono, troppi soldi e poche idee per spenderli. Sottotitolo, una situazione incredibile, ma dovuta alla generosa sensazione delle multinazionali. Quindi diciamo che fanno un po' ironici, no? Questi giornalisti dicono, anche i ricchi piangono. Beh, c'è un vecchio adagio che dice è meglio piangere in un castello rispetto a piangere in una baracca. Quindi diciamo che questo è facilmente, diciamo, questo detto, diciamo, è facilmente, diciamo, usabile in questo caso, va bene? Però andiamo avanti. Mentre in Europa molti ministri non dormono la notte, pensando a come reperire le risorse per la prossima finanziaria, a Dublino il governo un grattacapo in apparenza invidiabile. Cosa fare di un surplus nei conti pubblici che nel 2024 dovrebbe attestarsi di 8,6 miliardi di euro? Era di soli 8,3 miliardi lo scorso anno. Di solo, 8,3 miliardi lo scorso anno. Frutto anche, ma non solo, di un'economia che nel 2023 è cresciuta a un ritmo 5 volte superiore alle stime, quindi tantissimo. Una situazione incredibile, se si pensa che poco più di 10 anni fa l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale dovette trovare un piano di emergenza tra 67,5 miliardi per salvare l'economia dell'isola, colpita più di altre dalla grande crisi finanziaria. Quindi è vero. In Irlanda, come molti dicono, c'è stata la crisi finanziaria del 2008, quindi diciamo che questa è una delle obiezioni più grandi che mi fanno le persone quando dico che in Irlanda l'economia sta andando bene, dicono tutti, numero uno, che c'è stata la crisi finanziaria, numero due, che l'economia è basata sulle multinazionali. Quindi ecco, tutte queste obiezioni sono, diciamo, facilmente combattibili dicendo che in questo frangente, ok, per quanto riguarda il primo frangente, quindi il debito pubblico che c'era, ok, è stato sanato e si ha un surto, quindi si ha la situazione apposta. Il fatto che si è dipendente dalle multinazionali vedremo adesso come il governo sta combattendo anche questo problema. Quindi problemi ci sono, sì, come ci sono in Italia, però qui si stanno facendo cose, diciamo, intelligenti per poterli combattere, che è una cosa che fa piacere sentirsi dire, specialmente se si è interessati a spostarsi qui, va bene. Continuiamo un paragrafo in più, facciamo il secondo paragrafo anche. In realtà questa abbondanza ha un'origine ben precisa, cioè la generosa sassazione delle multinazionali. Fino a poco fa appena al 12,5%, oggi è realizzata al 15%, praticamente la metà della corporate tax italiana, ed ecco perché qui le aziende vengono, in Italia invece scappano, perché sono tassate troppo, che ne hanno fatto un paradiso fiscale per i colossi del web e farmaceutici, e storie di successo come Ryanair. Il PIL erlandese dal 2010 al 2022 è aumentato di quasi il 150%, quindi un grande aumento, passando da 221 ai 533 miliardi di dollari, mentre il PIL pro capite è quasi il triplo dell'Italia, a quota 102 mila dollari. Quindi, ok, questo PIL pro capite, diciamo che non è così, qui i salari medi non sono 102 mila dollari, ma sono circa 47 mila, perché questo è falsato da tutti quanti i soldi delle multinazionali che non restano sull'isola, ma se ne tornano negli Stati Uniti, va bene, però comunque il pro capite è molto alto, lo stipendio medio è molto alto, parliamo ad oggigiorno di circa 47 mila euro l'ordi, per persona, che equivalgono a un po' di più di 3 mila euro netti al mese, quindi ecco, non si sta a malacce, insomma. Quindi, un altro paragrafo, ok, il terzo, il risultato, ricordo il Financial Times, è che le entrate fiscali legate alla sassione delle imprese nel 2023 hanno portato nelle casse dello Stato 23,8 miliardi di euro, e quest'anno il bottino potrebbe essere di 24,5 miliardi, ma sono entrate che lo stesso governo di Dublino giudica volati dei temporanei, comunque difficilmente destinati a crescere a livello attuale. Non a caso l'esecutivo ha tagliato le sue previsioni di surplus di bilancio per gli anni a venire, ma si aspetta ancora un avancio di 38 miliardi di euro per il 2024 e il 2027, quindi si ha questo problema, tra virgolette, siano questo surplus i soldi, ma che cosa sta facendo il governo con questo surplus? Ok, come spiega l'economista Jared Brady, è che il problema dell'Italian non è che non ha abbastanza soldi, è che fatica a trovare modi per trasformare in cose reali, di cui le persone hanno bisogno, va bene. Come spiega il FT, una delle soluzioni potrebbe essere dedicare il surplus a risolvere problemi infrastrutturali che rischiano di strangolare il boom delle planta, dalla crisi immobiliare, che ha fatto schistare in alto i prezzi delle abitazioni, ai problemi della rete elettrica, dal progenimento idrico, dei servizi sanitari, dei trasporti pubblici, quindi sono tutti questi problemi che questo surplus potrebbe andare a mitigare, va bene, che sarebbe una cosa buona. Però, che cosa ha pensato di fare il governo? Quindi per il momento, seguendo ad esempio di paesi come la Norvegia, Dubin ha scelto di investire entro il 2035 più di 100 miliardi di euro del surplus in due fondi sovrani per il futuro. Il timore è quello, vista l'abbondanza di soldi, di eccedere con la spesa pubblica, su riscaldando le economie e facendo ripartire l'inflazione. Quindi sono, diciamo, hanno un approccio molto cauto, che dicono abbiamo questo surplus, invece di spendere tutti i soldi subito e far aumentare l'inflazione, e poi magari un giorno le multinazionali se ne andranno. Abbiamo un fondo sovrano che ci servirà per fare tante altre cose, quindi per esempio, vi faccio un piccolo esempio, essendo che l'Italia ha il terzo debito pubblico più alto al mondo, in pratica il credit rating dell'Italia è basso, mi sembra sia B, non so che cosa sia, invece l'Italian è A+++, quindi il credit rating più alto che si può avere. Quindi che cosa significa? Che se l'Italian chiede soldi da Comunità Europea, oppure un investitore privato, questi investitori sono contenti di dare i soldi in Irlanda, perché sanno che ha un credit rating alto, quindi sono molto più tranquilli, perché i soldi ritorneranno, invece quando danno questi soldi a un paese come la Grecia o l'Italia, che è un credit rating basso, alzano l'interesse, perché hanno paura che i soldi non ritornino, non gli ritornino indietro, e quindi quando ci sarà un problema in Irlanda, anche se ci sarà, con questo credit rating che ha molto alto, potrà prendere soldi impressi da un tasso di interesse basso, risolvere il problema facendo cose intelligenti, e tornare alla soluzione, tornare ad uno stato ottimale, come ha fatto dopo la crisi del 2008, va bene, quindi chiusa parentesi, e questo che è buono avere un fondo sovrano, è una buonissima idea, così non si aumenta l'inflazione, perché non si spendono tanti soldi in spese pubbliche, non si aumentano i salari, non si mettono tanti soldi in circolazione, si tiene quello sotto controllo, quindi secondo me l'idea è molto buona in realtà. Ma in vista delle elezioni generali previste per il 2025, non esclusa una finanziaria generosa a inizio ottobre, con un aumento della spesa da 6,9 miliardi di euro e 1,4 miliardi di euro di misure fiscali supplementari. In questo benessere, almeno dei conti pubblici, c'è chi invita a spendere i soldi in eccesso per migliorare la vita dei cittadini, visto che le classifiche descrivono Irlanda come il paese più solidario d'Europa, con quasi due terzi delle persone che soffrono di ansia o depressione. Incredibilmente poi, un bambino su sette vive in famiglia di sotto della soglia di povertà, segno di una distribuzione della ricchezza piuttosto diseguale. Allora, la distribuzione della ricchezza piuttosto diseguale in realtà avviene in tutto il mondo occidentale, anche in Italia, ci sono molti ricchi e c'è molta gente che fatica a arrivare alla fine del mese, quindi, ok, non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, ok? La differenza è questa, che in Irlanda c'è tanto lavoro, quindi chi non lavora è perché non vuole lavorare o perché viene da situazioni sociali disagiate, da famiglie dove purtroppo non c'è una cultura della legalità, quindi lavorare non è visto come una cosa naturale, va bene? Quindi si vive magari di espedienti, purtroppo, ok? Oppure ci sono altri problemi, droga, problemi mentali, che non in pratica permettono all'individuo di avere una vita normale, però queste persone, se non avessero questi problemi pregressi, potrebbero tranquillamente trovare un lavoro, perché in Irlanda l'economia, essendo che va così bene, essendo che c'è un solito sbilancio, essendo che c'è un democrazio nazionale, tutto questo, almeno al giorno d'oggi, ok, nel 2024, oggi 6 di settembre 2024, da voi ce n'è a Iosa, quindi se voi volete trovare il lavoro, se volete lavorare, il lavoro lo trovate, ok? Va benissimo, e poi potete iniziare a fare qualsiasi cosa, e potete andare avanti di carriera, perché quelle opportunità, come dicevo nel mio video, ce ne sono, basta a voi prendere le opportunità, ok? Quindi, comparato all'Italia, questo sbilancio, come dicevo, dà una sicurezza in più a chi vuole muoversi in Irlanda, perché sa che vai in un paese con una spesa, con un'economia, diciamo, con le casse pubbliche che sono in un, diciamo, una buona posizione, ok? Hanno una buona posizione, hanno, sono in pratica, non hanno problemi, va bene? Quindi, il problema è come spendere questi soldi che poi non li spenderanno, li investiranno in fondi pubblici, va bene? Quindi a me sembra un'idea ottima perché si sta, in pratica, dando una sicurezza ai cittadini, a chi vuole venire, che in futuro, se ci potesse essere qualsiasi problema, altra crisi, recessione, quello che sia, ci si hanno questi soldi dove poter attingere per poter fare in modo di risolvere eventuali crisi, che siano economiche, energetiche, pandemie, cose varie, va bene? Quindi, questa è una cosa che dovrebbero assicurare tutti, dove purtroppo in Italia non c'è la stessa situazione, perché abbiamo un disavanzo, va bene, pubblico, che significa, e poi abbiamo un credit rating più basso perché siamo stati in disavanzo da tanti anni, ok? E purtroppo il nostro PIL è allo stesso livello di quello che era durante la crisi del 2008, quindi nel 2008 è salito, poi è crollato, e adesso è allo stesso livello dopo tutti questi anni, quindi quanti ne sono? Tantissimi anni, 16 anni, ok? quindi non è mai risalito, purtroppo, va bene. Quindi, questo è quello che succede, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti, datemi un like, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, questo è un video molto tecnico, che a me piace, perché a me piace l'economia, vi metterò anche in descrizione l'intervista che ho fatto con Scala Balla, in cui parliamo dell'economia italiana, che mi è piaciuta molto quell'intervista, mi sono divertito tantissimo a dirvi la verità, vi ringrazio, vi saluto e al prossimo video. Ciao a tutti!